Genova incoronata, siamo sopra la collina a 200 metri di quota, sto inquadrando verso Eccolo, bellissimo, fantastica illuminazione verso il Piemonte, a nord della Val Polcevera, ci sono violentissime grandinate in atto, hanno danneggiato anche il parabrizza delle botte macchine e questa è la panoramica su Genova, il ponte San Giorgio, rifatto l'anno scorso, qui si gira in senso lato e in senso mare, questo è il mare, lì di là c'è il centro di Genova, questo lo svolgo della Val Polcevera, torniamo indietro, le nuvi basse che stanno sopra la città e di là il fronte temporalesco, eccolo, si vede il muro d'acqua che avanza, fantastico, eccolo che arriva, vediamo se c'è qualche altra combinazione, seguite meteoscenza in diretta sempre, eccolo qui, vediamo se arriva, abbiamo questo per fuoco, che vogliamo di più, meteoscenza, eccolo, ancora il monte, probabilmente anche sulla città arriverà qualcosa, per adesso vi saluto, continuate a seguire i giornamenti costanti.